Sono nove migranti giunti martedì sera a tarda ora sulle coste salentine dopo essere stati intercettati a circa 30 miglia a largo di Santa Maria di Reuca. Scortati dalle motovedette della Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, sono giunti al porticciolo della Marina di Castrignano del Capo. Una volta scesi a terra sono stati identificati. Si tratta di uomini, maggiorenni, sette si sono dichiarati siriani, uno è emenita e un altro palestinese, tra loro forse anche lo scafista. Sono state avviate le indagini del Pol Interforse Antimigrazione e l'imbarcazione è stata posta sotto sequestro. Sul posto anche volontari della Croce Rossa Italiana per offrire l'aiuto sanitario e i primi soccorsi muniti di ogni dispositivo di protezione individuale. I migranti sbarcati sono stati trovati in buone condizioni di salute e non è stato richiesto particolare intervento. I migranti sono stati tutti sottoposti ai controlli e ai protocolli anti-covid e al tampone. Al termine delle operazioni sono stati tutti accompagnati presso il centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto.